La ASL di Livorno, vediamo le immagini, consegna due defibrillatori semi-automatici alla Guardia di Finanza per l'impiego nelle unità navali. Ma in pratica come potrete utilizzarli? A bordo delle nostre unità navali che svolgono il loro servizio costantemente sia di giorno che di notte verranno consegnati questi due defibrillatori in modo che possano essere velocemente portati dove ce n'è bisogno. Qui a Livorno uno sarà consegnato a bordo di un guardacoste che potrà pattugliare le acque dell'arcipelago mentre l'altro sarà consegnato alla sezione operativa navale di Portoferraio. Lì sono molti gli interventi che potrebbero richiedere l'utilizzo del defibrillatore? Sicuramente sì, visto anche che durante la stagione balneare l'isola è frequentata da numerosi turisti dislocarlo su una vedetta veloce che può portarlo rapidamente laddove ce n'è bisogno sarà sicuramente vantaggioso per tutta la collettività. Nei mesi estivi per dare un'idea quanti interventi fate? Noi siamo in mare, si può dire H24 nei mesi estivi, interventi ne facciamo tanti. Fortunatamente non specifici per quello che è l'utilizzo del defibrillatore. Ora abbiamo uno strumento in più per intervenire e portare aiuto. Direttore, proseguite nella consegna di questi apparecchi e anche nella sensibilizzazione al loro utilizzo? Sì, è un percorso importante, è un percorso di diffusione sul territorio. Questo è un presidio salva vita, cioè l'insieme tra il presidio e la preparazione e la formazione degli operatori è un elemento che può fare davvero la differenza per quanto riguarda la possibilità di migliori supervivenzi in caso di infarto miocardico.